Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi il mese di ottobre è detto mese rosa perché di solito le donne sono un po' più attente, un po' più informate, hanno più informazioni su ciò che possono fare nelle differenti età e sanno anche a chi rivolgersi se ci sono dubbi o ci sono problemi. Il direttore donna permette a altre donne così di andare avanti. Diciamo che questa è l'impostazione che ha voluto Umberto Veronesi che ha sempre trattato le colleghe donne come tratta gli uomini quindi favorendo la loro carriera se sono in gamba. Quindi sì ci sono chirurghe donne, io sono un chirurgo donna, mi occupo moltissimo perché mi piace dalla comunicazione scientifica. E' fondamentale anche perché come dicevamo ieri sera, lo ripetiamo questa sera perché è ripetita Juvent in particolare quando si tratta di salvarci la vita. Oggi le donne che scoprono di avere un tumore del seno hanno l'80% di probabilità di non pensarci più poi per tutta la vita. Faranno qualche terapia, dovranno superare un intervento chirurgico ma guariranno nell'80% dei casi. E quindi va la pena di fare la prevenzione. Assolutamente, la prevenzione è una delle armi, l'informazione è una delle armi che noi abbiamo contro il tumore. Il tumore del seno è qualcosa che riguarda tante donne purtroppo ma anche ha una guaribilità molto alta. Questo è importante perché chi affronta la prevenzione deve anche affrontarla con un carico di paura giusto ma non eccessivo. La paura spesso ci ferma. Oggi stesso ricevevo un'email da una signora che mi ha detto preferisco togliermi il seno ma non voglio affrontare la paura quando faccio gli esami. Allora questo ci dovrebbe far capire quanto sia importante informare anche sulle armi che abbiamo per rendere meno pericoloso il tumore. Quindi un po' meno traumatico anche l'impatto con la prevenzione. Lei farà parte di una breast unit all'OIEO? Sì, sì, sì. La breast unit all'OIEO è veramente quella che tratta più casi al mondo. Quanti casi all'anno? 3.500 ogni anno ed è la casistica più numerosa al mondo. Devo dire che... ed è una breast unit nel senso che ci sono i chirurghi, ci sono gli oncologi medici, ci sono i radiologi, ci sono i radioterapisti, quindi ci sono tutte le figure che insieme devono... Possono definire il percorso migliore per ciascun paziente e diciamo scriverlo addosso alla persona ammalata. Personalizzare perché personalizzare è la vera cura. Quando sento parlare di protocolli mi viene anche un po' il brivido perché siamo persone diverse. Se siamo, dico sempre, pezzi unici. E poi se lo dite voi che ne curate 3.500 all'anno, viene bene dire che in realtà dovrebbe essere così un po' per tutti. Devo dire che l'Italia dal punto di vista dei centri di eccellenza è messa bene. A me non piace tanto dire che c'è solo il centro dove io lavoro. Sicuramente abbiamo un livello che è un livello alto, ma in Italia ci sono tanti centri che hanno un livello di eccellenza così, soprattutto in senore. Abbiamo consigliato ieri, credo lo consiglierà anche lei oggi, attenzione dove ci facciamo curare. Nel momento in cui scopriamo di avere un tumore al seno non andiamo nell'ospedale sotto casa. Con tutto il rispetto per gli ospedali sotto casa, però è proprio documentato. Esistono studi che dicono che da noi negli Stati Uniti o in qualsiasi paese guarisce di più chi sa dove andare. Perché sa scegliere. Quindi si tratta di capire che le cure non sono uguali dappertutto, la qualità non è uguale dappertutto e anche la preparazione dei medici, che non è una preparazione solo universitaria, ma è l'esperienza. Il fatto stesso per esempio di andare a fare una prevenzione, cioè una diagnosi precoce. Se vado da qualcuno che fa sempre ecografia mammaria e mammografia e fa quello e si è specializzato in quello, è chiaro che ha la possibilità di leggere anche un tumore molto piccolo e di vederlo. E questo è il punto. Qualcosa che in qualche caso può sfuggire. Purtroppo l'errore medico esiste e esiste a priori, quindi può sfuggire comunque la visione del tumore piccolo, questo a prescindere dall'eccellenza. Però l'eccellenza dei luoghi e delle persone ha un peso, certo, riduce il rischio. Ma lei è anche una scrittrice. Che cos'è il male dentro? Il male dentro è il romanzo che ho pubblicato con Cairo Editore nel 2013 ed è una storia di tante persone, medici, infermieri, pazienti, in un istituto oncologico. Quindi ho messo in un romanzo, non tanto la cronaca di ciò che accade, perché non mi interessava fare questo, ma ho raccontato. Ho voluto raccontare soprattutto i rapporti bellissimi che si creano all'interno di un ospedale, principalmente con i pazienti, perché i pazienti danno, danno molto. A me piace avere relazione con le donne che seguo. Dico donne perché sono state quasi tutte operate al seno. E quindi ho voluto raccontare quella parte umana che non sempre ci viene in mente quando pensiamo a un centro di eccellenza. E quindi, diciamo, le storie sono inventate, però... Verosimili, non bene, ma verosimili. E devo dire, sono contenta perché sembra che il libro sia stato, insomma, sia gradito e è stato molto letto in seconda ristampa. Mi fa piacere più che altro perché credo che tanti volti, tante storie vadano ricordati e vadano un po' metabolizzati. Dobbiamo riflettere anche sui rapporti medici-pazienti, infermieri-pazienti, infermieri-medici. È importante. Anche perché nel caso vostro un po' meno, ma nel caso di chirurghi, di medici che curano persone che purtroppo probabilmente non ce la faranno, è difficile andare avanti e guardare in faccia queste persone ogni giorno. Per cui metterci nei vostri panni è un dovere anche da parte nostra. Ma credo che sia un dovere reciproco. Nel male dentro metto anche un medico che si ammala, e si ammala male di una malattia molto grave. Perché questo può accadere. Ho voluto dire che sappiamo che questo può succedere e qualche volta il ruolo è intercambiabile. Soprattutto nel medico che può ammalarsi e qualche volta può morire di malattia. Credo che nella relazione tra medici-pazienti o tra infermieri e pazienti sia necessario mantenere il ruolo, ma ricordarsi sempre di mettersi al posto dell'altro. Perché l'altro ha forse delle ragioni e anche una visione delle cose che può aiutarci. Sentirsi un po' paziente da parte del medico può aiutare a recuperare un po' di umanità. Ma sentirsi un po' medico da parte del paziente significa anche capire perché le difficoltà, cosa sta succedendo. È una relazione interessante, non facilissima, che non può essere paritaria perché non lo è di necessità, come non è paritario il rapporto tra genitori e figli, però può essere una bellissima e profonda relazione. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, sappiamo che purtroppo ha degli altri impegni e deve abbandonarci. Grazie a Giovanna Gatti, senologa e comunicatore scientifico dell'OIEO. E noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria. A tra poco. Grazie a Giovanna Gatti.